ciao a tutti eccomi anche oggi e benvenuti a l'italiano in podcast io sono paolo e vi do il benvenuto a questa nuova puntata l'episodio 364 di venerdì 19 novembre 2021 scusate episodio un po da vampiro perché è luna di notte non è troppo tardi ma non è neanche presto quindi è già il 20 novembre ma l'episodio è quello del 19 novembre questa sera ho fatto un po tardi mi sono svegliato un po adesso avevo un po sonno fino a poco tempo fa ho fatto una bella conversazione un po tardi e adesso sono più sveglio non sarà un episodio lungo perché ovviamente è tardi ma proviamo a fare un episodio classico non come ieri ieri era molto diverso e un po particolare ma oggi seguiamo un po lo schema classico quindi come ogni sera vi parlo un po della mia giornata vi racconto qualcosa di quello che ho fatto poi qualche notizia ma oggi in realtà non c'è molto torniamo a una situazione già vista le pagine dei giornali e dei siti web cominciano di nuovo a essere piene di covid e questo chiaramente non mi piace molto per tante ragioni ma anche oggi parleremo l'episodio del bollettino come sempre e infine poi le piccole rubriche di curiosità che chiudono l'episodio alla fine quindi anche oggi proviamo a fare questo esercizio di ascolto e di comprensione lo dico ogni giorno ma questo è l'obiettivo del podcast regalarvi qualche minuto con la voce di un madrelingua che parla in italiano con una velocità abbastanza giusta diciamo giusta per le persone che studiano la lingua non sono troppo lento quando parlo ma neanche troppo veloce quindi anche oggi proviamo a migliorare la vostra capacità di comprensione e arricchire un po il vocabolario con parole e frasi espressioni scusate espressioni italiane scusate e quindi come come ogni giorno da qualche settimana dico la stessa cosa mettetevi comodi cercate un posto tranquillo dove poter ascoltare il mio podcast con con tranquillità appunto senza essere disturbati da troppi rumori quindi aprite bene le orecchie cercate di sintonizzarle sulla mia voce sul mio ritmo sulla mia intonazione per provare ad acchiappare questo verbo lo conoscete bene ormai tutto quello che riuscite nella del mio monologo quindi il senso la il significato delle mie parole ma anche il nuovo vocabolario e qualche espressione idiomatica magari c'è sempre molto vocabolario vecchio questo è importante secondo me perché aiuta a memorizzare meglio alcune parole che conosciamo già ma ovviamente c'è sempre qualche parola nuova da aggiungere cercate un po di fissare nella memoria quello che quello che vi colpisce di più tanto abbiamo molti episodi ne abbiamo fatti 364 quindi c'è c'è molto materiale e ci sono molte cose nuove e vecchie da da ricordare bene quindi come sempre iniziamo questo piccolo viaggio quotidiano con la scoperta di quello che è successo nel mondo di paolo in questo venerdì 19 novembre la sveglia è arrivata presto ma senza una sveglia senza nessun suono ho dormito più di cinque ore anche oggi è molto tempo che dormo cinque ore o più beh molto tempo è più di quasi dieci giorni forse questa è una buona cosa quindi riesco a riposare un po di più piano piano spero di aumentare questo numero di ore il mio ideale sarebbe sei credo che sei ore siano il tempo giusto per me per avere un buon riposo e funzionare molto meglio beh certo se dormissi anche sette o otto ore non mi dispiacerebbe sarebbe sicuramente una buona cosa però sei ore sono il mio obiettivo dormire sei ore sarebbe davvero una buona cosa quindi mi sono svegliato presto come ho detto prima delle sette e alle sette e mezza ero già fuori casa ho fatto la colazione come sempre solo con il caffè per i problemi di cui vi ho parlato cerco di evitare più possibile il più possibile la masticazione di cose difficili perché in questo momento ci sono questi problemi ai denti voglio evitare problemi più seri che possano impedire la mia partenza la settimana prossima purtroppo la mia dentista mi ha detto come sapete che non è in questo momento possibile iniziare a sistemare questo problema perché devo partire ovviamente quindi se voglio andare via per qualche giorno devo devo stare attento e fare un po di sacrificio non posso essere troppo libero di fare quello che voglio vuol dire che in questa vacanza il cibo non sarà una cosa molto troppo importante non potrò assaggiare cose nuove o pensare troppo al cibo beh è un peccato però è una una cosa necessaria quindi come dicevo la colazione e poi ho fatto una bella passeggiata più di quattro chilometri questa mattina forse quasi cinque in realtà un po più a lungo del solito ho passeggiato sulla spiaggia questa mattina quindi non sulla strada sul marciapiede del lungomare ma sono sceso proprio sulla sabbia sulla spiaggia è qualcosa che non faccio sempre ma ogni tanto mi piace passeggiare a pochi centimetri dall'acqua quindi sul bagni asciuga oppure battiglia questo è il nome di quella zona di sabbia umida compatta più solida che si trova tra il mare e la sabbia asciutta in questa zona il mare spesso arriva e torna indietro questa zona questa striscia di sabbia di spiaggia si chiama appunto bagni asciuga e battiglia o battiglia e mi piace passeggiare la mattina in questa zona perché c'è il suono del mare e poi anche l'odore molti di voi forse vivono vicino al mare conoscono questo odore capiscono cosa intendo e a me piace molto soprattutto la mattina anzi direi la mattina ho fatto una bella passeggiata quindi sulla spiaggia e poi sono rientrato per la mia prima lezione della giornata non ne ho fatte molte in realtà solo tre anche oggi avrei voluto fare più di quello che ho fatto ma in realtà mi sono occupato di molte cose ma molte piccole cose soprattutto per organizzare il mio viaggio la settimana prossima ho sistemato alcune piccole cose ho fatto qualche acquisto ovviamente quando si fa un viaggio di solito c'è sempre qualche acquisto da fare no qualche qualche vestito nuovo qualcosa da mettere nuova o anche qualcosa che può servire per il viaggio e poi ho anche sistemato alcune cose di lavoro sì ma non troppo difficili piccole cosette niente di che e senza potermi accorgere di questo era già ora di pranzo che ovviamente ho fatto in modo molto attento ho mangiato delle cose molto morbide mangio molti formaggi freschi in questo periodo ovviamente sono la cosa più più morbida che conosco e poi ho deciso di andare a correre sono un po nervoso in questi giorni quindi la corsa è qualcosa che mi rilassa sempre e ho voluto provare di nuovo una corsa più lunga ho corso per 15 chilometri credo siano più o meno 9 miglia per chi non ha non capi diciamo non ha capisce bene chilometri non non ha non è abituato ai chilometri ecco non non capisce bene ma non è abituato ai chilometri dovrebbero essere 9 miglia sì e sì quindi ero un po stanco ma tutto è andato bene anche il tempo non era male ovviamente più lento a causa della pausa che c'è stata di due settimane ma anche devo dire che ho sentito che le gambe non avevano voglia di essere più veloci ho avuto la sensazione che con una velocità più alta avrei potuto avere qualche problema soprattutto nei muscoli posteriori delle cosce come come spesso è caduto quest'anno e come l'ultimo incidente anche quindi non ho esagerato con la velocità però sono ancora tempi devo dire molto buoni non sono affatto male non i migliori ma sicuramente dei buoni tempi le gambe stanno recuperando la stessa condizione di prima però forse io ero più stanco del solito alla fine quattro settimane fa una corsa come questa non avrebbe non mi avrebbe stancato troppo oggi ero un po stanco a dire la verità quindi sono rientrato ovviamente una pausa per rinfrescarmi con una bella doccia e prepararmi di nuovo per la lezione del pomeriggio una sola lezione nel pomeriggio e poi ho sistemato ancora piccole cose piccole sì piccole pratiche chiamiamole così che avevo in sospeso per alcune cose personali non per lavoro e ho deciso di uscire di nuovo per una passeggiata altri 4 chilometri più o meno oggi ho camminato e corso molto infatti stasera mi sento stanco forse farò una bella dormita dopo il podcast però dopo quest'altra passeggiata ero molto affamato perché non ho mangiato molto molto durante il giorno e ho mangiato davvero con gusto la sera un bel piatto molto grande di risotto risotto con la zucca che mi piace molto e poi una bella pausa fino all'ultima lezione del giorno prima di iniziare questo 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 podcast giornata tranquilla con molta attività come ho detto fuori casa ho corso camminato ho fatto tante cose fuori casa quindi beh dai una buona giornata il venerdì è l'inizio del fine settimana domani c'è la pausa per il sabato quindi ho la possibilità di recuperare un po di energie e poi beh la settimana prossima finalmente spero che sia possibile andare un po in vacanza per qualche giorno dopo ben due anni quasi esatti dall'ultimo viaggio il podcast ci sarà fino a martedì mercoledì sera voglio rilassarmi e dormire un po più presto perché giovedì mattina devo uscire devo partire abbastanza presto quindi non ci sarà un podcast mercoledì ci sarà più o meno dopo quasi una settimana il martedì successivo quindi l'italiano in podcast prende forse la pausa più lunga da quando esiste beh ma ovviamente io e l'italiano in podcast ce lo siamo meritato perché dopo 365 puntate domenica saranno 365 puntate direi che possiamo fare una pausa un po più lunga del solito possiamo spegnere il microfono per qualche giorno così anche voi potrete ritrovare un po più di entusiasmo nel sentire la mia voce quando ritornerò la settimana dopo ma fino a martedì sono qui e continueremo come sempre con il programma di sempre sperando che il mese prossimo io vi possa proporre finalmente questo nuovo questi nuovi contenuti anche per quanto riguarda i video e altre cose per il momento forse voglio solo arrivare a questa pausa per riprendere un po di fiato e cercare di rilassarmi un po di più bene questa la giornata questo venerdì è andato così come ho già detto inizia adesso la pausa per il fine settimana come ogni settimana quindi vi racconterò il sabato fra due giorni e non domani vediamo invece qualche breve notizia molto breve dall'italia come vi ho detto non c'è molto da dire in realtà le prime pagine le pagine dei giornali sono piene di una sola cosa questo antipatico e insopportabile covid 19 ci sono altre notizie ma sono notizie di cronaca niente di importante cioè non niente di importante sono a volte notizie un po tragiche anzi e mi dispiace di aver detto niente di importante quello che intendo dire che non sono notizie che ovviamente entrano di solito nel podcast perché prima di tutto si sono a volte cose tragiche e secondo questo genere di notizie non aiuta insomma il nostro obiettivo quello dello studio della lingua quindi oggi vi do solo qualche informazione nuova su sul covid perché davvero sto guardando e riguardando da molto tempo le le prime pagine ma c'è davvero molto poco qualcosa di politica ma anche qui non c'è davvero molto quindi vediamo cosa succede con questo dannato covid la tendenza è ovviamente in peggioramento questo lo dicono le agenzie europee lo dice anche il ministero insomma quindi si cercano nuove regole per quanto riguarda il green pass è possibile che da dicembre o comunque dai prossimi giorni qualcosa cambi quello che per me è importante che ancora siamo in una zona bianca e che ancora nella maggior parte d'italia non ci sono grandi problemi negli ospedali ci sono in alcune zone solo in alcune zone non molte ma per fortuna per il momento è ancora possibile condurre una vita abbastanza normale con l'uso della mascherina ovviamente con l'uso del green pass in molte situazioni ma devo dire le limitazioni non sono moltissime oggi il bollettino ci dice che abbiamo 10.500 casi come potete vedere la tendenza è all'aumento ogni giorno ci sono purtroppo 48 vittime il tasso di positività è del 2 per cento e ormai la terza dose questo richiamo del vaccino potrà essere disponibile anche prima dei sei mesi dall'ultima dalla vaccinazione diciamo nel mio caso sono passati quattro mesi perché ho fatto la seconda dose il 31 luglio quindi agosto settembre ottobre e ormai novembre credo sia un po' presto forse il prossimo mese o all'inizio dell'anno prenoterò la terza dose la vaccinazione per la per il richiamo è aperta dai 40 anni in su quindi anche io rientro in questa fascia con i miei 46 anni per il momento però credo che a quattro mesi dalla seconda dose non dovrei avere questa necessità o esigenza quindi l'italia insomma comincia a prepararsi come gran parte dell'europa all'arrivo di queste di questo periodo così importante del natale probabilmente la situazione peggiorerà un altro po' quello che spero che non ci siano molti morti molte vittime e soprattutto che gli ospedali non abbiano problemi forse ci saranno più contagi ma è possibile che con l'85 per cento della popolazione vaccinata anche questi contagi non non abbiano insomma conseguenze gravi qui ormai la mia idea è che prima o poi la gran parte di noi forse prenderà questo covid non lo so e se posso evitarlo preferisco evitarlo perché non si può mai sapere ma sembra evidente a me non so se sia davvero così che questa possibilità è molto alta quindi avere il vaccino protegge un po' dagli effetti più indesiderati quelli peggiori della malattia meglio affrontare il virus insomma con un po' di protezione anche se devo dire che nella mia città nella mia area è ancora possibile forse non non essere contagiati perché non siamo molti c'è spazio ma immagino questa è una mia idea ovviamente senza troppi dati immagino che la vita in città sia un po' più difficile e lì forse è più difficile evitare il contagio per cui speriamo che questa vaccinazione questa campagna di vaccinazione italiana sia dia non sia dia i frutti sperati cioè ci dia questi vantaggi sperati che altri paesi con meno vaccinati non hanno per ora i numeri ci danno ragione perché rispetto ad altri paesi probabilmente abbiamo meno meno positivi e anche meno vittime meno problemi insomma e tocchiamo ferro tocchiamo legno tocchiamo tutto quello che c'è da toccare speriamo che sia così ancora a lungo o fino alla fine di questa crisi internazionale quello che è certo e che che sembra certo è che qui non ci saranno chiusure per le persone non vaccinate alcuni paesi europei hanno scelto questa strada di limitare la circolazione delle persone che non hanno un vaccino in Italia sembra una soluzione non accettabile e non amata dalla popolazione quindi probabilmente non sarà così è interessante perché i paesi che hanno più persone non vaccinate applicano questo modello quello di chiudere un po' alle persone che non si vaccinano noi che abbiamo un tasso così basso il 15% di persone non vaccinate abbiamo più problemi a una una regola come questa con una regola come questa personalmente come al solito non so bene cosa pensare ma mi piacciono sempre poco le chiusure mi piacciono sempre poco le misure troppo severe continuo a pensare che il buon senso delle persone potrebbe migliorare la situazione senza regole troppo severe ma questa è un po' una mia illusione forse perché evidentemente senza delle regole il buon senso non funziona lo dico dall'inizio di questa pandemia molte regole forse non sarebbero state necessarie se la gran parte della popolazione avesse mantenuto un atteggiamento di buon senso però purtroppo non è andata così speriamo che tutti questi problemi abbiano fatto cambiare idea a molte persone ma basta così non vi do il numero dei vaccinati perché è praticamente simile a ieri l'aumento a questo punto è molto lento siamo all'84,5% della popolazione vaccinata 3 milioni di persone hanno ricevuto il richiamo vedete bene che questi sono numeri abbastanza importanti e molto grandi l'87% degli italiani ha fatto già una prima dose almeno una prima dose quindi c'è ancora un milione e duecento trecentomila persone che devono ricevere la seconda e probabilmente prima del Natale arriveremo all'86% della popolazione vaccinata quindi questa è una buona notizia chiaramente speriamo che ci aiuti ad affrontare questo periodo più serenamente ma tutto qui anche oggi per quanto riguarda le notizie ormai è sempre più tardi quindi vediamo le nostre rubriche velocemente oggi non ci sono troppe ricorrenze o compleanni ricordo solo una ricorrenza quella della nascita di un programma storico italiano della RAI programma della televisione un programma che è diventato iconico come dico spesso ed è questo programma di quiz che il grande e il famoso Mike Buongiorno conduceva su RAI 1 il programma è davvero uno dei più iconici della nostra televisione della storia della nostra televisione è iniziato nel 1955 il 19 novembre alle 21 quindi alle 9 di sera il titolo del quiz di questo gioco televisivo era la show raddoppia questo nome è stato usato in molte in molte altre come dire situazioni per esempio nel cinema nella musica insomma questo nome è diventato un qualcosa che tutti gli italiani conoscono ed è entrato nella cultura storica del paese così come Mike Buongiorno che è scomparso da molto ormai è diventato uno dei personaggi più importanti della televisione italiana per quanto riguarda ovviamente scusate ovviamente vi invito a leggere qualcosa credo di aver fatto un esercizio su questo ma non sono sicuro potrei provare in questi giorni a fare qualcosa se non c'è già un esercizio anzi questa è una buona idea per provare qualcosa di nuovo non vi prometto niente ma potrebbe essere l'argomento che cercavo per una nuova idea non ci sono altre cose da ricordare qualche compleanno sì compleanno vediamo questo c'era ma c'era c'era qualche compleanno ma in realtà no no nessun compleanno da ricordare oggi sì ah beh forse sì sicuramente questo è ci sono ci sono dei compleanni di personaggi famosi ma voi sapete che io non faccio gli auguri a tutti vi ricordo invece l'anniversario di un compleanno di una grandissima attrice di una grandissima comica anche italiana il suo nome era Anna Marchesini purtroppo scomparsa da un po' di tempo per una una brutta malattia e lei faceva parte di un trio comico insieme ad altri due personaggi molto famosi Tullio Solenghi e Massimo Lopez tutti e tre insieme hanno fatto divertire milioni di italiani con diverse cose interessanti forse la più ricordata dagli italiani è questa versione comica dei promessi sposi i promessi sposi sono un libro importante per la letteratura sono di Alessandro Manzoni uno scrittore molto importante per la letteratura italiana e loro tre hanno fatto una versione comica divertente di questo libro nient'altro da ricordare quindi solamente questo anniversario della nascita di Anna Marchesini che purtroppo è scomparsa molto giovane quindi non ha potuto regalarci ancora altre emozioni ma lo aveva già fatto in molte occasioni prima bene tutto qui anche per questa rubrica non resta che l'aforisma del giorno la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre oggi ho scelto una frase corta con una parola un po' nuova per voi forse che vi invito a cercare la frase di oggi è questa ognuno ragiona secondo il marciume che ha dentro la parola che può essere nuova per molti di voi è il marciume ovviamente è una frase un po' provocatoria un po' interessante in realtà potremmo tradurre questo marciume come qualcosa che tutti noi abbiamo insomma delle dei conflitti interni dovuti alle esperienze della vita qualche volta anche un po' ai traumi della vita quel marciume in questa frase è un po' tutto questo che durante la vita accumuliamo dentro di noi che a volte è un peso anche da portare ma che in fondo può influenzare il nostro modo di pensare ma vi invito a scoprire la parola marciume meglio e vi invito a scoprire l'autore o l'autrice di questa frase che è di un personaggio contemporaneo quindi che ancora è tra di noi e che ancora produce cose molto interessanti e che è molto popolare e conosciuto con questo è tutto l'appuntamento è per domenica spero che abbiate un buon fine settimana spero che anche il mio sia buono e vi invito a ritornare per un nuovo episodio ad ascoltarmi spero anche che questo podcast sia buono ma per adesso basta così è il momento di salutarvi quindi io vi saluto appunto e ci vediamo ci sentiamo domani sera ciao a tutti anzi scusate ci sentiamo domenica sera ciao a tutti ciao a tutti